La sesta parte del confronto fra il Samsung Galaxy A7 2017 e il Huawei Mate 9. In questa sesta parte parliamo di differenze, diciamo, software o meglio di interfacce. Il Mate 9 si presenta con Android Nougat 7.0 e con le Motion UI 5.0. La versione attuale è la B152, non sono arrivati aggiornamenti ufficiali via OTA, nonostante siano stati rilasciati alcuni firmware e sono arrivati fino alla B182, ma non esiste un metodo ufficiale per poter aggiornare a questi firmware. Mentre per quanto riguarda il Samsung, invece abbiamo Android 6.0.1 e come interfaccia la Grace UI, che è una sorta di touchwits aggiornata che è stata lanciata con il Note 7, con uno stile e una grafica più moderna rispetto alla vecchia interfaccia e anche più fluida rispetto alla vecchia touchwits. Detto questo, partiamo innanzitutto con le due modalità. Facendo un big to zoom su uno, un big to zoom sull'altro, nel caso del Mate è possibile in pratica modificare gli sfondi, i widget, le transizioni, andando in impostazione è possibile modificare il layout 4x5, 5x4 o 5x5 per quanto riguarda le icone, l'allineamento automatico, scuotere il telefono per gestire automaticamente e mettere le icone nella schermata Home, l'icone app beige, cioè avere il numerino a fianco a determinate applicazioni, ovviamente non vale però per tutte, consiglio delle app, il loop della schermata Home, in maniera tale che non si blocca scorrendo ma sia sempre continuo, e nel caso che la rotazione automatica sia attivata possiamo anche variare, cioè ruotare anche la Home a rotazione attivata. Nel caso invece del Samsung, attraverso un ping to out è possibile variare gli sfondi dei temi, i widget e anche qui la griglia, in 4x4, 4x5 e 5x5. Per quanto riguarda invece la tendina, delle notifiche per entrambi i dispositivi, abbiamo nel caso del Mate, abbassiamo tutta la tendina e abbiamo questi toggle rapidi, cliccando su un toggle rapido avviamo il toggle stesso, quindi avviamo l'applicazione ad essa collegata, tenendo premuto sul toggle andremo nel campo delle impostazioni legate a quello stesso toggle, mentre invece con questa freccettina possiamo abbassare ed alzare i toggle, qui possiamo andare nel campo delle impostazioni e qui possiamo modificare la posizione, aggiungere o rimuovere alcuni toggle. Nel caso invece del... ed è presente poi la barra di luminosità, poi qui compaiono le notifiche, grazie a Nougat è possibile per esempio interagire direttamente con la notifica, rispondere per esempio ad una chiamata, oppure è possibile rispondere ad un messaggio direttamente dalla tendina delle notifiche, cosa che non è possibile con le vecchie precedenti versioni di Android. Nel caso del Samsung invece, abbassando una sola volta la tendina delle notifiche, rispetto alle precedenti versioni della TouchWiz, non possiamo effettuare con uno swipe, quindi scorrere da sinistra, da destra verso sinistra per visualizzare tutti i toggle, ma per visualizzare tutti i toggle dobbiamo abbassare necessariamente tutta la tendina delle notifiche, tenendo... cliccando una sola volta sul toggle avviamo l'applicazione, tenendo premuto invece sul toggle non entriamo nel campo delle impostazioni, ma in pratica abbiamo la possibilità di modificare la posizione degli stessi toggle, aggiungere o rimuovere altri toggle. Poi anche qui abbassando tutta la tendina delle notifiche è presente la barra della luminosità per la gestione automatico manuale, una barra di ricerca per trovare dispositivi vicini, poi sotto il singolo toggle è presente una sorta di freccetta che ci consente di entrare nelle impostazioni di quel toggle stesso e poi è presente in basso, essendo anche questo un dual sim, ci viene mostrato con quale sim effettuare e mandare i messaggi, con quale sim effettuare la chiamata e con quale sim effettuare la connessione dati. Andiamo proprio nel campo delle impostazioni generali di tutti e due i dispositivi e partiamo con le connessioni, o meglio, Innanzitutto con il Mate grafica molto pulita ci viene in pratica consigliato, ci convene anche una sorta di consigli, come prima voce ci compare rete dati disattivata qualora non abbiamo attivato la rete dati e poi è possibile far comparire anche una serie di suggerimenti che fa lo stesso dispositivo, poi attraverso uno swipe da sinistra verso destra possiamo far comparire tutte quante le voci delle impostazioni, mentre invece nel Samsung abbiamo tutte quante le voci su un'unica schermata e con una serie di sottomenu legate ad ogni voce. Per quanto riguarda la gestione della doppia scheda, nel caso del Mate andando in gestione dual sim possiamo attivare o meno le due sim, vedere su quale sim è imbossato il 4G, quindi la sim in cui è imbossato il 4G ovviamente navigherà con la rete mobile, lì possiamo decidere quale sim utilizzare in maniera predefinita per le chiamate e l'inoltro della chiamata, dato che non è un dual sim full active come il Mate 8, in questo caso possiamo effettuare un trasferimento di chiamata, quindi se siamo occupati in conversazione con una sim possiamo fare in modo che ci venga trasferita su quella sim in cui siamo occupati in conversazione la chiamata che riceviamo sulla seconda sim, servizio che comunque andiamo a pagare, in maniera tale da mettere in attesa la chiamata che stavamo effettuando e rispondere alla chiamata sulla seconda sim. Andando in dati mobili possiamo gestire i dati sulle due sim, valutare il traffico su una sim e la valutazione dell'utilizzo in 4G, in app rete possiamo gestire quale app devono andare in dati mobili, possono scaricare dati mobili e wifi, è anche la stessa cosa per le app di sistema, e andando in gestione di rete avanzata possiamo in pratica gestire quali app installate o quelli di sistema possono scaricare dati in background, quindi quando il dispositivo va in stand-by, e quale scaricare dati in roaming. Poi abbiamo l'hot spot wifi e poi il risparmio dati. Tornando indietro, andando in altro possiamo gestire l'NFC, l'aggiornamento link più live, che ci consente di utilizzare il wifi per aggiornare i parametri di connessione qualora questi si presentano, poi c'è la gestione del VPN, il tethering e l'hot spot portatile, il VPN e l'NFC. Mentre per quanto riguarda invece il Samsung, andando nel campo delle connessioni possiamo gestire il wifi, bluetooth, la visibilità del dispositivo, l'utilizzo dei dati, la modalità offline, l'NFC, il router, in reti mobili possiamo in pratica vedere con quale modalità navigare su una sim e sull'altra, allora, mentre con il Mate, se impostiamo sulla sim 1 il 4G, la seconda sim va in 2G e in 3G, mentre con il Samsung, se impostiamo la sim 1 in 4G, e quindi la sim 1 sarà quella che utilizzeremo per navigare in mobile, la seconda sim andrà solamente in 2G, e con il 2G non ci consente comunque di navigare. Poi possiamo gestire i profili e gli operatori di rete. In gestione schede sim possiamo in pratica, cliccando sulla sim, possiamo attivare o meno la sim, possiamo scegliere un'icona che contraddistingua le due sim, decidere di registrare un nome distinto per le due sim e la modalità della rete. Possiamo decidere con quale sim effettuare una chiamata o chiedercelo sempre, quale sim utilizzare per mandare messaggi e quale sim utilizzare per la connessione dati. Poi c'è la richiamata adattiva. Se flaggiamo questa opzione, in pratica ci consente di decidere sempre quale sim utilizzare per effettuare una chiamata. Se invece è deselezionata questa opzione, il telefono si ricorda quale sim abbiamo utilizzato ultimamente per effettuare la chiamata e quindi nell'effettuare una chiamata utilizzerà l'ultima sim che era stata registrata per effettuare la chiamata stessa. E poi anche qui c'è il dual sim sempre attiva. non è un full active, quindi anche qui c'è l'inoltro della chiamata grazie al trasferimento di chiamata potremo rispondere ad una chiamata che ci verrà trasferita nella sim principale in cui stiamo effettuando la conversazione e quindi anche in questo caso il servizio è a pagamento. Entrando poi nel campo delle impostazioni della singola del dialer telefonico nel caso del mate abbiamo la trasmissione vocale chiamata in arrivo risponde alle chiamate tramite comando vocale riduci il rumore, chiamata veloce, unisci le impostazioni per le due sim scendendo ancora in basso rifiuti le chiamate con sms i toni tastierino e c'è la presenza della modalità tascabile per aumentare il volume se si trova il telefono in tasca e poi la chiamata HD virtuale cioè nel caso in cui siamo connessi in LTE possiamo effettuare una telefonata sfruttando il massimo della connessione quindi avere una chiamata più cristallina questa opzione è presente anche nel Samsung ma in pratica andando anche qui nel campo delle impostazioni delle telefonate quindi andiamo anche per quanto riguarda il Samsung nel campo delle impostazioni delle telefonate come vediamo compare trascinando, facendo uno swipe verso sinistra o verso destra possiamo chiamare o inviare il messaggio direttamente dalla rubrica rubrica con i numeri blocca numeri, messaggi rifiuto delle chiamate cioè possiamo risposte e chiusura delle chiamate possiamo utilizzare il tasto home come i vecchi dispositivi Samsung per rispondere ad una chiamata gli avvisi di chiamata suonire e toni tastieri in altre impostazioni abbiamo le impostazioni legate alle singole sim con il numero se far comparire o meno il numero il trasferimento blocco chiamata avviso e poi abbiamo nascondi video personale impostazioni segreteria telefonica quindi come vediamo non compare la possibilità di gestire la chiamata in HD questa è una funzione come anche altre funzioni che possono essere però implementate nel dispositivo utilizzando un'app specifica quindi scaricate l'applicazione Quick Shortcut Maker una volta aperta questa applicazione andiamo in impostazioni e possiamo come vediamo possiamo in pratica creare uno shortcut legato ad una singola funzione per esempio vogliamo creare lo shortcut di questa altra impostazione di rete clicchiamo qui e poi andiamo in creare automaticamente lo shortcut comparirà nella nostra schermata home quindi in questo caso qui abbiamo qui in questo caso ricerca dispositivi vicini e qui è quello che abbiamo creato ora altre impostazioni di rete allo stesso modo navigando nel menu delle impostazioni tramite il programma prima citato possiamo in pratica abilitare trovare la voce impostazioni voce in HD quindi mettiamo nel bar di ricerca dell'app prima citata la desinenza voce ci compare l'app la creiamo e otteniamo impostazioni voce in HD quindi ingressando su Galaxy A7 la possibilità di utilizzare la voce in HD con connessioni in LTE oppure possiamo avere un'ottimizzazione ai video che è anche una funzione che va in pratica ad aumentare la vivacità dei colori qualora utilizziamo il lettore video oppure YouTube o il Google Play Film anche questa è una fungionalità che è nascosta nei menu ma la possiamo abilitare attraverso l'app prima citata ritorniamo nel campo delle impostazioni in questo caso andiamo in nel campo della modalità dello schermo allora nel caso del mate possiamo variare lo sfondo modalità visualizza possiamo in pratica variare i DPI in grande media e piccola in piccola abbiamo una riduzione di DPI che ci consente di avere più voci direttamente sulla schermata e quindi per raccogliere più informazioni possibili poi possiamo variare le dimensioni del carattere il Daydream la protezione degli occhi che ci consente di aumentare l'opacità del colore variando la temperatura e programmando anche l'orario della stessa questa è una funzione utile di notte per non stancare gli occhi abbiamo la luminosità variare la temperatura del colore in predefinita calda o fredda la sospensione e la rotazione automatica allo stesso modo nel Samsung è presente la possibilità come nel mate di variare la luminosità in automatico manuale il filtro anche qui luce blu anche qui la possibilità di variare le dimensioni dei caratteri anche il tipo di carattere poi la modalità facile poi è possibile variare anche qui una modalità schermo quindi varia la temperatura del colore in schermo adattivo cinema AMOLED foto AMOLED di base io sono rimasto con lo schermo adattivo dove è possibile anche poi variare la temperatura dei colori quindi variare singolarmente la tonalità blu verde o rosso a nostro piacimento poi l'always on display una volta attivato in pratica con lo schermo spento ci fa comparire la data l'orologio la percentualità della batteria ed eventuali notifiche quando queste in pratica sopraggiungono e questa è una funzione utile perché manca il led di notifica andiamo a disattivarlo e ritorniamo al campo delle impostazioni possiamo poi avere la barra di stato quindi mostrare la percentuale della batteria e mostrare solamente le ultime tre notifiche che abbiamo ricevuto lo spegnimento dello schermo mantenere lo schermo spendo qualora il telefono in tasca per non far partire per esempio una chiamata e lo screensaver per quanto riguarda la modalità audio è più o meno la stessa tranne che nel 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 met nella modalità audio possiamo gestire i volumi la modalità silenziosa vibra una modalità silenziosa possiamo gestire una doppia sonneria per le due sim e anche gestire la vibrazione per le due sim poi gestire la notifica il tono di notifica il passaggio in automatico dalla modalità audio alla modalità stereo quando ruotiamo i dispositivi nei orizzontali i toni del tastiero numerico i toni della pressione il tono blocca schermo il tono schermata se vibrare la pressione la pressione i toni di accensione e poi c'è il broadcast mentre nel caso del samsung è possibile gestire anche in questo caso la modalità audio se avere una suoneria la vibrazione o silenzioso se vibrare squillare il volume la suoneria possiamo anche qui gestire una differente suoneria per sim e anche avere notifiche differenti come vediamo abbiamo anche diciamo a differenza del mate possiamo avere anche una gestione diversa delle notifiche a seconda delle sim poi il tipo di vibrazione suoni di notifica non disturbare il feedback sonoro suono a blocco schermo suono della ricarica il tono della tastiera suono della tastiera qualità e audio effetti che è una funzione che manca nel mate possiamo infatti nel mate possiamo gestire la modalità DTS e l'equalizzatore solo con le cuffie qui invece possiamo nel samsung gestire l'equalizzatore anche senza le cuffie in modalità normale pop classica jazz rock o personalizzata modificare i bassi e gli acuti oppure più una sonorità strumentale o vocale andando in avanzate possiamo variare l'equalizzatore ancora maggiormente e poi una volta introdotte anche le cuffie possiamo anche gestire altre funzioni poi tornando sempre nel campo delle impostazioni nel caso del mate andando in notifiche e barra di stato possiamo gestire le singole notifiche quindi dove ricevere le diverse notifiche possiamo avere le notifiche fare in modo che lo schermo si attiva la ricezione della notifica utilizzare un indicatore quindi il led di notifica mostrare il nome dell'operatore il metodo di notifica quindi se con icone numeri o nessuno la percentuale della batteria o visualizzare la velocità di rete mentre invece nel caso del samsung in caso del samsung andando in notifiche possiamo solamente gestire se diciamo le app debbano o meno ricevere le notifiche andando in avanzate possiamo decidere per singola app possiamo decidere se contendere la notifica se impostarla come priorità anteprima dei pop-up schermata di blocco o mostrare il contenuto sulla schermata di blocco per quanto riguarda la mate è possibile mappare anche i tasti quindi variare la posizione dei tasti aggiungerne un quarto che abbassa la tendina delle notifiche attraverso il lettore di impronta possiamo non solo sbloccare il dispositivo qualora sia registrata ma possiamo anche scattare una foto rispondere a una chiamata interrompere la sveglia mostra il pannello delle notifiche sfoglia le foto nell'album e nella blocca schermo possiamo in pratica gestire un blocco a schermo tramite password o tramite trascinamento normale e possiamo impostare anche lo stile del blocco a schermo nel caso che in cui si è impostato uno sblocco magazine in pratica in questo caso abbiamo impostato lo sblocco magazine in pratica va a cambiare l'immagine attraverso lo sblocco magazine va a cambiare in pratica l'immagine ogni volta che noi blocchiamo il dispositivo e lo sblocchiamo va a variare in pratica l'immagine poi sempre nella schermata di blocco compare anche il numero dei passi qualora abilitiamo l'impostazione oppure torniamo nella modalità di blocco facendo come vediamo è cambiata l'immagine e questo è il blocco magazine quindi allo sblocco del dispositivo va a cambiare sempre l'immagine poi con uno swipe dal basso verso l'alto abbiamo questa serie di toggle che ci consente registratore calcolatrice torcia bussola è questa che ci consente di effettuare la scannerizzazione di un codice a barre oppure possiamo in pratica avviare una canzone condividere eccetera nel caso invece del samsung andando nella schermata di blocco e sicurezza abbiamo il tipo di blocco l'info alle applicazioni quindi se avere un orologio doppio o meno e poi il collegamento alle applicazioni posso decidere quindi di mostrare due applicazioni predefinite all'interno della schermata di blocco poi con le impronte digitali qualora le abbiamo registrate possiamo in pratica bloccare un'applicazione e sbloccare il dispositivo poi c'è sorgenti sconosciute l'area personale che serve in pratica a bloccare l'applicazione e i contenuti privati per fare in modo che non siano visibili ad altri individui le possiamo gestire anche tramite l'imbrota digitale l'avvio protetto quando all'accensione possiamo impostare un determinato blocco per non farlo vedere ad altri dispositivi e poi ad altri utenti e poi altre impostazioni di sicurezza le impostazioni però più interessanti nel caso del mate sono presenti in assistenza intelligente in assistenza intelligente abbiamo la possibilità di far attivare questo menu che ci consente di gestire una serie di applicazioni come indietro home oppure effettuare una pulizia eccetera oppure possiamo in pratica avere il controllo del movimento quindi possiamo decidere che cosa succede quando capovolgiamo il telefono quindi per disattivare la suoneria che cosa succede quando solleviamo per in pratica ridurre il volume in entrata cosa facciamo quando avviciniamo il telefono all'orecchio per rispondere a una chiamata seguire una chiamata o l'olto parlando intelligente i colpi di nocca per disegnare uno screenshot di una forma particolare oppure a schermo acceso oppure effettuare una linea retta con un colpo di nocca per avviare molti windows oppure a schermo acceso disegnare una lettera a cui abbiamo associato un'applicazione per aprire quell'applicazione stessa poi è possibile gestire in pratica la visualizzazione ad una mano attraverso uno swipe dal tasto home verso sinistra o dal tasto home verso destra e poi tornare indietro in pratica o clic o rifacendo lo stesso gesto oppure cliccando nella parte nera poi ritorniamo nell'assistenza intelligente nel Wii con una mano oppure possiamo solamente ridurre la tastiera e mantenere tutto il resto normale oppure abbiamo la riattivazione vocale cioè possiamo in pratica riattivare il telefono dato che manca il doppio tocco per riattivare il telefono e quindi è possibile riattivarlo tramite solo il lettore d'imbronda digitale possiamo riattivarle con in pratica la riattivazione vocale però solo in lingua inglese e ci viene raccomandato di utilizzare la voce ok EMI attraverso lo scaricamento dei dati in italiano possiamo però in pratica utilizzare la nostra voce registrata in italiano per rispondere ad una chiamata tramite il comando vocale o effettuare una chiamata veloce con schermo spendo clicchiamo sul tasto volume in basso e pronunciamo il nome della persona che vogliamo in pratica chiamare poi c'è la funzione cover in intelligente e poi l'accensione e lo spegnimento programmato cuffia intelligente la modalità guanti e la modalità disattiva tocco nel caso invece del samsung abbiamo molte voci andiamo in funzioni avanzate abbiamo lo stand by intelligente per mantenere lo schermo acceso quando lo guardiate la modalità gioco l'uso ad una mano cliccando in pratica due volte diciamo riducendo lo schermo cliccando tre volte sul tasto home poi c'è la vista pop up diciamo andando da un bordo verso il basso possiamo ridurre le schermate come per esempio in questo caso in questo caso però come vediamo ci compare la voce che questa applicazione non può essere suddivisa ma per esempio nella schermata telefono andiamo qui e riduciamo la schermata e poi da qui possiamo in pratica chiuderla ingrandirla ridurla ad icona oppure trasferire un testo da un'icona ad un'altra come vediamo qui compare l'icona poi torniamo in in funzioni avanzate abbiamo anche l'avvio rapido della fotocamera cliccando tre volte sul tasto home poi c'è il movimento vista pop up l'acquisizione intelligente acquisisci col trascendo del palmo la chiamata diretta come il mate ci consente di effettuare una chiamata avvicinando il telefono all'orecchio poi c'è la notifica intelligente che in pratica ci avvise con una vibrazione che abbiamo delle notifiche nel momento in cui alziamo il telefono molto semplice che ci consente capovolgendo il telefono o ponendo la mano di disattivare la suoneria e la condivisione diretta altre funzioni sono presenti in accessibilità in accessibilità se andiamo in vista abbiamo la possibilità di attivare l'assistente vocale che va però a disattivare altre funzioni prima presenti avere un collegamento all'accessibilità all'etichetta vocale dove registrare dei messaggi vocali sui tag nfc poi carattere a contrasto elevato avere una tastiera a contrasto elevato mostra la forma del pulsante le lende di ingrandimento possiamo attivare la scala dei grigi che ci consente avendo uno schermo AMOLED di ridurre ulteriormente l'autonomia di aumentare ulteriormente l'autonomia del dispositivo in modalità udito possiamo disattivare i suoni avere i sottotitoli o l'audio mono oppure possiamo in pratica avere una notifica attraverso il flash cioè possiamo fare in modo che il flash della fotocamera si accende quando a volta ci arriva una notifica poi abbiamo il blocco direzionale l'accesso diretto che ci consente di avviare una di queste applicazioni cliccando tre volte sul tasto home però ovviamente se è attivato già la riduzione dello schermo cliccando tre volte sul tasto home non possiamo attivare una di queste funzioni poi c'è la modalità singolo tocco che ci consente in pratica di posticipare le sveglio e gli eventi del calendario di rispondere a una chiamata effettuando un singolo tocco gestione accessibilità poi i servizi che in pratica sono stati registrati i servizi che sono stati registrati e poi in modalità sviluppatura abbiamo più o meno le stesse funzionalità del mate quindi due menu molto completi forse è più completo quello del mate ma anche quello del samsung presenta diverse funzionalità e diverse impostazioni molto interessanti come menu però preferisco quello del mate perché è di più facile intuizione anche perché come abbiamo visto quello del samsung alcune voci sono in pratica nascoste quindi per poterle attivare dobbiamo necessariamente o cambiare l'interfaccia utilizzando per esempio Nova oppure utilizzare questa applicazione qui Quick Shortcut Marker creare una sorta di shortcut che ci consentono di avviare determinate funzioni che sono in pratica nascoste che stelle è ormai le costante è